Nooo! Nina! Toschiamo a chiamare la polizia! Nina! 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 Esci! Un momento! Dai! Nina! Ehi, che è? La cassaforte! Piange! Sono incinta! Tu sei incinta! Pure tu sei incinta! Tu l'hai detto che sono incinta! Sono incinta! Accidenti! Chi è? Chi è il padre? Chi è? Dada? Nooo! Il mare sciallo? Nooo! Picanto! Il comandante piccante! Perciò lo guarda! Aaaaaaah! Che bello! Un bemo sull'interpriso! Ma deve crescere! Aaaaaah! 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 Allora me lo promettete ragazze, non direte niente a nessuno! Nina, stai tranquilla, vero Santa Maria? Non ti preoccupare Nina, che poi non si vede niente! E infatti! E infatti! Dici? Eeeh! Allora si vede! E perché hai fatta con le facce? Tranquilla! Andate! Tranquilla! Andiamo! Si vede! Mi raccomando, è un segreto! Non ti preoccupare Nina, non diremo niente a nessuno! Ehi! Ehi! Fate largo ragazzi! Ehi! 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 Hai visto qualcosa, una pastarella, un dolce, un banchetto femminuccio o qualcos'altro? Ehi! Ehi! Ai vostri posti! Ma... ooooh! Mamma mia Si vede Pronto? Mamma? Ciao, ciao, sono Nina Sì, ciao Senti, mamma Mi dovresti prestare quella panciera, quella tua Secondo me dobbiamo chiamarlo Claudio Sì, il nome di un imperatore Sì, proprio una cellula antropomorfa Pensa invece a un nome molto più signorile, più artistico Tipo Michelangelo Michelangelo? Sì, e allora? Giulio Sì, Giulio Cesare Un condottiero Grezza Invece devi pensare a qualcosa di molto più raffinato Tipo Raffaello Raffaello? E io dico Benito Autorità Mi piace E lo sai perché ti piace il Benito? Perché tu sei un fascista Tu sei un fascista? Sì, sì E allora tu sei un non global? Mi hai fatto malissimo Tu invece sei un non global? E tu sei un non global? Aia Global Non global Non global Basta E' stato lui Che è successo? Lui dice Che tiziano è un brutto nome Gli piace Benito Benito Non è vero, io volevo chiamarlo Actarus Beh, Actarus, non è un brutto nome Incinta No, mamma Ma che dici? No No, ultimamente sono un po' ingrassata Sì, sai con gli amici La sera, la birra Sì Sai che c'ho un debole Sì Non ti preoccupare Va bene Ok Ciao, ciao mamma Ciao Ciao, ciao Sono incinta Nina è incinta? Sì, certo E da quando? Un paio di anni? Un paio di anni Sì Come? Un paio di anni che cos'è? Un cavallo? Da quanto tempo è incinta? 15 mesi Non di più Che è un elefante? E come? Almeno un anno e mezzo sarà incinta Sì, un anno e mezzo Comunque è un bel maschietto Sì Un bel maschietto Sì, sì Sì Abbiamo fatto anche l'ecografia Sì, sì Davvero Sì, di maresciallo È bellissima È bello, eh? Che carino Actarus Actarus Sì Sì, sì Actarus Tanto è bello Actarus 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 Quindi Actarus Che nome è? Cosa ha detto maresciallo? Actarus Actarus Sì Che piano ha detto Actarus Senza 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 Aia Facile Nina è incinta È parto di là Tra qualche giorno È tutto sporco Non c'è Mamma mia No, scusate No, scusate Uno, due Eccola Questa è un po' Eccola Questa è un po' Allora, let's hear you sing now. No, Pasquale, lo voglio alla crema. Alla crema. Pasquale, alla crema. Alla crema. Alla crema. Sì. Pasquale. Alla crema. Alla crema, mamma. Oh, aspetta. Contenta? Grazie. Alla crema. Alla crema. Alla crema. Alla crema. Ahah!